Live, non è la D'Urso.Davvero verrà cancellato il grande fratello di Barbara D'Urso? In realtà, secondo indiscrezioni, sarebbe a rischio il reality show per i tanti impegni della carmelita nazionale Ma, dietro tale ipotesi, ci potrebbero essere anche gli ascolti poco prolifici dell'Isola dei Famosi Il pubblico da casa lamenta una scelta di cast davvero molto discutibile.Qualche giorno fa, sul profilo Instagram di Barbara D'Urso, è stato lanciato il promo del nuovo programma della presentatrice Live, non è la Dua RS o aperte virgolette Il programma prenderà il via nei primi giorni di marzo in prima serata ovviamente su Canale 5 A spiegare in qualche modo di cosa si tratta, è stata Barbara D'Urso una specie di domenica live molto ampliata, con dinamiche diverse La trasmissione segna il ritorno di Barbara in prime time con un talk show. Nel promo si vede una Barbara D'Urso conduttrice del TG5, sposa nel segreto, velina a striscia la notizia, meteorina, giudice a foro, inviata, compagna di Rija Beautiful Poi, finalmente, qualcuno spegne la TV. Chi? Ovviamente lei, Barbara, quella vera Insomma, ne vedremo delle belle.Il cocco della discordia.Forse verrà cancellato il grande fratello di Barbara D'Urso In realtà, queste sarebbero indiscrezioni dei fan della categoria reality visti gli ultimi ascolti, poco positivi, dell'Isola dei Famosi Proprio in Honduras, i naufraghi, non fanno altro che litigare. Dopo Soleil e Ariadna, adesso tocca a Sara e Gesal Tutta colpa di un cocco, che i ragazzi hanno deciso di aprire e mangiare senza chiedere il permesso al leader L'ex calciatore si è sentito scavalcato e ha inveito contro la ragazza che ha detto la sua e si è difesa A me la libertà di parola non la toglie nessuno.L a puntata di mercoledì.Non sappiamo, se sarà cancellato il grande fratello di Barbara D'Urso A causa degli ascolti dell'Isola dei Famosi, ma, una cosa è certa, domani con Alessia Marcuzzi ne vedremo delle belle, e si discuterà molto circa alcune parole offensive pronunciate dai naufraghi in ultimi giorni .